Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto, un nuovo videocorso estivo che affronta una necessità di cui proprio questo pomeriggio mi sono trovato a parlare con un'amica e collega Francesca. Parlavamo infatti della migliore modalità da seguire, da far seguire ai colleghi che si trovino ad avere il contratto di lavoro scaduto, la non certezza di tornare poi nel medesimo istituto e quindi la necessità di trasferire i dati Google presenti sul loro account Google Workspace della scuola da lì ad un account personale. Badate bene, la necessità potrebbe anche essere passare da un account Google Workspace ad un secondo account Google Workspace perché mi trovo a lavorare su più scuole o a cambiare scuola. Ebbene, c'è un servizio, quindi un sito, un applicativo web ufficiale di Google il cui nome è Google Takeout. Come potete vedere dalla mia manina il servizio Google Takeout fa già riferimento a un portar via. Però ci sono due modalità di accesso a Google Takeout. Takeout Transfer e Takeout più completo e mi spiego meglio. Guardate tramite il mio schermo. Google Takeout generico, potete banalmente fare una ricerca per parole chiave tramite motore di ricerca Google, avendo cura di aver effettuato l'accesso con l'account Google Workspace e lo vedete in alto a destra. Ecco, con Takeout generico io ho veramente un grande controllo di tutti i miei dati e profili presenti su Chrome, Classroom, Drive, Gmail, i contatti, addirittura i dati condivisi per le ricerche su Google, bla bla bla. Il che da un lato, mi permetto, ci deve anche rendere responsabili nel capire quante informazioni andiamo a cedere a Google nell'utilizzo normale dei servizi che ci sono necessari. Di contro, Google Takeout Transfer, anche lì sito di riferimento lo vedete nella barra degli indirizzi, ma accedete comodamente digitando come parole chiave di ricerca su Google Takeout seguito da Transfer, ci permette di trasferire veramente in un lampo email e tutto ciò che è su Drive con una procedura ridotta all'osso. Se notate io come nei programmi di cucina mi sono già portato un pochino avanti, al punto 1 ho già digitato l'indirizzo dell'account di destinazione da me voluto, ho digitato un Gmail nella mia disponibilità. Sempre come nei programmi di cucina, io ho aperto la casella di posta elettronica dell'account di destinazione, vi faccio vedere che c'è la mail automatica con scritto Google verifica dell'account, che se clicco su ricevi codice di conferma pulsante blu, mi viene generato un codice di conferma, io lo debbo selezionare, poi clicco con il tasto destro del mouse, con il tasto sinistro, vado su copia, volendo posso anche cliccare continua qui, come vedete, ora mi dice inserisci il codice, clicco tasto destro, poi clicco tasto sinistro su incolla, clicco su verifica e come per magia, io andrò ad osservare account di provenienza, account di destinazione, due interruttori già accesi che sono Drive e Gmail, con un clic su avvia trasferimento, 3, 2, 1, mi viene richiesta che cosa in realtà, attenzione bene, per sicurezza mi richiede nuovamente di specificare account e password dell'account di provenienza, quindi indirizzo e password del mio account Workspace, attenzione a non sbagliare lì, ecco fatto, attesta che abbiamo terminato, attenzione, qui abbiamo finito, nel senso che occorre solo aspettare, quando tutto sarà pronto, oltre a ricevere una mail automatica di conferma, troveremo in Gmail, con parole e email etichettate con il nome dell'account di provenienza e in Drive, in apposite cartelle, i contenuti che sono stati trasferiti e questo è Google Takeout Transfer. Se parliamo di Google Takeout completo e tali servizi valgono anche per trasferire da un Gmail ad un Gmail, potrete notare che la procedura è più lunga e articolata, perché più lunghi ed articolati sono i passaggi ed è articolata la quantità di dati che posso esportare. Ora vado giù, vado giù, vado giù, tanto per essere ancora più chiari, io posso deselezionare ciò che non ritengo strettamente necessario. Andiamo ad analizzare, account Google potrebbe essere interessante, calendar potrebbe essere interessante, Chrome, Classroom, i contatti, Drive, però Fit voglio dire, o Google My Business o Google Pay non servono a nulla, lasciamo stare, mi permetto anche Google Play Store, Google Shopping e quant'altro. Via, deselezioniamo, rendiamo più leggero il cosiddetto backup. Poi un clic su passaggio successivo, perché ora lui mi dirà guarda, ti manderò un link per fare il download di tutto questo ambaradan e avrai, da quando te lo manderò, una settimana di tempo per scaricarti tutto. Esporterò un archivio, vedete il pallino, sarà un archivio in formato compresso zip, perché deve stipare tante cartelline, ogni cartellina appartiene a un certo servizio. Poi, ci dice anche, bene, devo suddividere, nel gergo si dice splittare questi pacchetti che sto esportando con una certa quantità massima di gigabyte, e allora noi gli diciamo, guarda, 50 gigabyte, nel senso che le esportazioni di dimensioni superiori a 50 gigabyte verranno suddivise in diversi file. Se invece io sto entro quella quantità, allora posso magari avere un solo pacchetto zip. Attenzione, Google Workspace dà spazio di archiviazione illimitato, ma vi ricordo che Gmail, account personale, offre 15 gigabyte di spazio per l'archiviazione condivisa tra tutti i servizi Google. Quindi 15 giga di un account personale Gmail erodono da Gmail posta, Drive e quant'altro. Nel caso si tratti di molti dati, allora poi occorre passare, ma francamente il costo di un caffè mensile, poco più, può valere la pena passare, mediante l'apposita funzione Google, ad un piano, per esempio, da 100 giga a disposizione. Voglio dire, scelte personalissime. Ecco, io ora clicco crea esportazione per mostrarvi che poi da qui in avanti c'è tutto un processo che si deve compiere e che può durare diverse ore. Ora io qui cliccherò annulla esportazione per motivi di praticità, ma commento brevemente. Alla fine di tutto avremo una mail automatica di conferma, un pulsante da cliccare, scaricheremo sul nostro dispositivo consiglio computer, un archivio, eventualmente più, in formato zip, cioè archivi compressi. Con un doppio clic apriremo questi archivi zip e troveremo tante cartelle con il nome dei servizi Google di riferimento. Le potremo dunque ricaricare sul nostro account Google personale. Se usiamo Takeout in tale maniera, utilizzando come vi ho mostrato prima Google Takeout Transfer, il passaggio di Gmail contenuti di posta e Drive sarà automatico e i contenuti verranno etichettati, cosicché a colpo d'occhio, quindi con il nostro sguardo, sapremo cosa è del nostro account personale e cosa è sul nostro account personale, ma proveniente da quello della scuola, dal account Workspace. Bene, potremmo chiamarle pulizie di primavera, ma in realtà siamo in estate. Spero di esservi stato utile e da ancora un caro saluto da Andrea Cartotto. Ciao!